Il mio tradizionale e cordiale bentrovati al pubblico di Blog Sicilia per questo appuntamento con Talk Sicilia con il quale rilanciamo la stagione 2023-2024. Siamo appena rientrati da un breve periodo di ferie, il giornale evidentemente non si è mai fermato nel raccontarvi quello che succedeva ed è evidente che cose ne sono successe parecchie, ma torniamo adesso anche con la produzione video con i nostri talk ed è nostro gradito ospite a questa ripartenza Gianfranco Micichè che è qui con noi, che ringraziamo per essere venuto a trovarci. Buongiorno a tutti e grazie. Gianfranco Micichè lo sapete tutti, chi è ma lo ricordiamo, ex Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, uomo di Forza Italia, coordinatore fino a qualche mese fa o poco più di Forza Italia, protagonista, e questo lo dobbiamo ricordare anche se evidentemente non è una parte piacevole, di uno scontro con quello che è l'attuale dirigenza di Forza Italia. Ma oggi vogliamo parlare principalmente del futuro, almeno io parto da qui, poi lui avrà da raccontarci tante altre cose, di quello che può essere il futuro di Forza Italia, una vicenda che evidentemente cambia, una politica che guarda già oggi alle europee, all'attuale anche del fatto che non c'è più quello che è stato il padre nobile di Forza Italia, che era Silvio Berlusconi. Micichè ho fatto un riassunto molto veloce, hai detto qualcosa di sbagliato? Sì, l'unico errore che mi hai detto che sono Presidente dell'Assemblea, sono stato. Ex, ex, ex Presidente dell'Assemblea, sì sì, perché dico, forse ho sbagliato, magari ho abitudini, ma ex. Hai fatto un'analisi perfetta, una storia perfetta e veloce dell'ultimo periodo. Io ho molti dubbi su quello che può succedere in Forza Italia, perché a livello nazionale mi sembra che la Meloni stia cominciando a ragionare molto, a prescindere dagli alleati. Ogni giorno c'è uno scontro, Salvini e Crosetto sul generale, Traiani e Meloni sulle tasse alle banche, ogni momento c'è uno, quello sulla giustizia, con ordine non ne parliamo, per cui non è una maggioranza facile da reggere e secondo me non è una maggioranza facile da reggere perché non c'è Berlusconi, perché finché c'era Berlusconi, che era comunque quello che alla fine li chiamava intorno a un tavolo e trovava sempre la mediazione, sempre la soluzione, questa figura è venuta meno, non c'è dubbio che se quello che sto dicendo è giusto, e io credo che può essere sbagliato in parte, ma sostanzialmente è giusto, lo stesso tipo di problema abbiamo in Forza Italia. Mentre prima qualsiasi problema comunque alla fine finiva sul tavolo di Berlusconi, che prendeva la decisione e Berlusconi non aveva una corrente, Berlusconi era il capo del partito, amava tutti nella stessa maniera e favoriva quello che gli sembrava più giusto favorire in quel momento perché c'erano delle motivazioni, oggi non mi sembra che sia più Crosetto. Abbiamo una situazione in Sicilia che rende ancora più complicato tutto questo quadro perché abbiamo un capo del partito che è anche capo del governo. Mi viene da ridere quando dicevano che io non potevo fare il coordinatore regionale perché ero presidente dell'Assemblea, invece oggi non si può fare essendo anche presidente della regione, ma questo non è importante. Il coordinatore del partito è Marcello Caruso. Dobbiamo dire le cose per come stanno o scriviamo un libro di fantasia? Dobbiamo anche raccontare a chi ci segue che formalmente è Marcello Caruso. Formalmente è Marcello Caruso. Formalmente è Marcello Caruso, diciamo molto formalmente. Quindi quello che vuole dire Gianfranco Micicchia è che Marcello Caruso, coordinatore del partito, è comunque uomo di Schifani e in buona sostanza il partito è nelle mani del governatore. Esatto, è così. Cioè la gestione di Schifani non è niente di male. Non è questo per me il problema. Il problema qual è? è che anche in questa occasione c'è la voglia correntizia, c'è la voglia di fare le cose giuste e lo abbiamo dimostrato. Purtroppo nelle ultime amministrative, io avevo previsto che le amministrative per Forza Italia sarebbero state negative e lo sono state in tutti i comuni dove c'è stato un problema di corrente, cioè scegliere tra l'uno e l'altro e tra uno portato da un deputato e un altro sindaco portato da un altro deputato, abbiamo perso e anche malamente ovunque, abbiamo vinto soltanto a Catania dove non c'era un candidato di Forza Italia, dove c'era un candidato molto bravo e comunque accettato da tutti. quindi il centro deve essere rimasto unito. Ma è più un problema, questo da un punto di vista di analisi politica, quello che si presenta è più un problema dentro Forza Italia o un problema fra gli alleati? Io quello che ho vissuto nel raccontare le vicende di queste amministrative, lo dico da cronista politico e osservatore, è stato delle tensioni con Fratelli d'Italia che ha spesso imposto le proprie scelte agli alleati e agli alleati che per evitare di spaccare la coalizione hanno fatto qualche passo indietro, è più questo o c'è anche una questione diversa da questo dal punto di vista di Giafranco Micica? Il problema dentro Forza Italia c'è, ma non c'è dubbio che il problema dentro Forza Italia comporta un problema dentro la coalizione e anche lì Forza Italia un tempo aveva il ruolo che aveva Berlusconi a Roma, cioè comunque alla fine ci si sedeva attorno a un tavolo normalmente convocato da Forza Italia per trovare le soluzioni a tutti i problemi, cioè le suddivisioni dei sottogoverni, dei compiti, delle deleghe, avveniva sempre, ma lo dico sinceramente con grandissima tranquillità, ma lo dico dai tempi in cui io mi riunivo con Cuffaro, Lombardo e Guido Loporto, ti ricorderai? Guido Loporto che è una persona meravigliosa, oggi si riunisce chi? Chi sono le quattro figure della coalizione che con serenità, con equilibrio, ognuno pensando all'intero proprio partito si riuniscono in una stanza per dire a te questa, a me che salto, non c'è più, non ci sono più. Quindi manca l'autorevolezza della guida nei partiti? Purtroppo è così, però andiamo avanti, l'ha scritto guardare in camera, io guardo oltre, se è possibile, cioè che cosa succederà? Anche qua io dico la mia che non ho detto che sia l'assoluta certezza, però credo che quando ho immaginato qualche scenario futuro l'ho più o meno azzeccato, succederà questo, che se a Roma la Meloni prende troppo piede così come sta avvenendo in questo momento, la coalizione romana non durerà. Oggi quello che io vedo come unica possibilità per il futuro è una forza Italia che prima di finire, perché è destinata comunque, senza Berlusconi, è destinata a sciogliersi, non c'è niente da fare, possiamo dirne quante vogliamo, non ci sarà una possibilità di continuare a mantenere una forza politica senza un capo, piena di debiti, senza un congresso, senza una gestione congressuale, sana, perché è tutto fatto in funzione correntista, eccetera, quindi è destinata per forzare le cose a sciogliersi. Prima che questo avvenga, un incontro di Forza Italia, mi piacerebbe anche con Salvini, col centro-sinistro. Io oggi non riesco a vedere uno scenario politico che possa essere utile al paese diverso da questo. Cioè stai riproponendo il compromesso storico di antica memoria. Assolutamente sì. In questo momento sì, perché? Perché la destra è troppo forte. Non c'è un motivo. Contraddizioni incredibili. Quello che ha scritto questo pazzo di generale è una cosa inaudita. Però ha ragione Sgarbi. Crosetto non ci può permettere di destituirlo. Perché c'è la libertà di stampa o no? C'è la libertà di opinione in Italia oppure no? O è soltanto una libertà di opinione che è quella che ti piace? Quello che ha detto questo generale è opproprioso. Ma ha la libertà di dirlo? Oppure no? E quindi un uomo del governo lo destituisce. Il ministro della difesa ha destituisce. Un generale perché ha detto quello che pensava. C'è un rischio importante sulla libertà di opinione. Però viceversa c'è anche un problema che si può presentare di incompatibilità in un ruolo così importante di chi ha questo direttore. Non può esistere l'incompatibilità. Sto prendendo l'avvocato del diavolo. Ed è giusto. Ma non può esistere l'incompatibilità su quello che io faccio e quello che io penso. Come dire? Non è che siccome io penso che non ci devono essere i negri, li ammazzo. Sono due cose completamente diverse. Da generale dell'esercito faccio quello che mi viene ordinato da generale dell'esercito. Poi se voglio pensare che mi fanno schifi i negri, ripeto, vomito. Ma se non vuole dire ha diritto di dirlo. Nessuno lo può punire per questo. Non c'è un codice. Non esiste un reato di opinione in questo paese. Esattamente. Se no andiamo a finire in una deriva. Esattamente. Non c'è il reato di opinione. Allora quando mi parlano sempre di stampa libera. Se è stampa libera il pensiero è libero. perché attenzione anche sulla stampa è un ragionamento che facciamo spesso anche con lei direttore. Stampa libera non esiste. Esiste l'opinione libera. Tutto ciò che io voglio scrivere di opinione libera. Poi c'è la cronaca. La cronaca non è libera. La cronaca di un fatto non c'è la libertà di stampa. C'è la libertà di verità. La libertà di stampa là interviene nella misura in cui ho il diritto di raccontare il fatto. Assolutamente. Anche se il fatto non fa piacere a qualcuno. La libertà di stampa interviene in questa misura. Diversa dalla libertà di opinione che invece non può incidere nel fatto. Per cui ha ragione Sgarbi quando dice che il signor pazzo generale comunque il suo mestiere lo sa fare perché se no il generale non ci poteva arrivare. Che poi ha scritto una cazzata inimmaginabile che può pure non piacere ma non puoi condizionare la sua carriera al fatto che abbia avuto un'idea, un'opinione diversa dalla tua. Questo è fascismo. Mi dispiace dirlo. Non voglio arrivare perché poi sembra che anche qui chi usa fascismo e comunismo è un po' nel senso costituzionale del termine. Diciamolo così. Esattamente. Cioè è abuso di potere. Non le puoi fare certe cose. Il che significa che io sono a favore del generale. Io sono esattamente all'opposto. Sono uno che sono più di sinistra che non di destra. ma ritornando a quello che dicevo prima. Oggi una possibile soluzione ai problemi di questo Paese sono risolvibili soltanto nel momento in cui si mettono insieme le forze democratiche, le forze moderate del Paese. Non l'abbiamo capito. Lo abbiamo detto. Non lo abbiamo capito. La destra stravinto. Anche con Forza Italia dentro. Siamo attenti. Io sono stato in prima di avere votato Meloni. Per cui mi guarderebbe dire cose diverse. però ho sempre sperato che la Meloni forse più democratica, forse più condizionabile da alcune situazioni di moderazione che il Paese vive. Sta dimostrando di esserlo poco. Il prossimo passaggio, chiaramente politicamente parlando, saranno le elezioni europee. Andando verso le elezioni europee, chiaramente si cerca di disegnare quelli che possono essere gli scenari. Parlando con altri analisti politici, in questi giorni abbiamo valutato che forse la Sicilia, che ha sempre mostrato qualche diversità rispetto al resto del Paese, anche per contenzioni e per costruzioni di alleanze, forse la Sicilia mostra di andare più verso il centro di quanto non mostri il resto del Paese. Un esempio è la democrazia cristiana dell'ex presidente Toto Cuffaro, che dimostra una certa presenza, ma è anche qualche differenza di opinione, divergenza di opinioni, fra quelli che sono i centristi in generale. Forza Italia non potrebbe piuttosto mettersi alla guida, fra virgolette, passami il termine, di una coalizione centrista dentro questo centro-destra, piuttosto che realizzare un compromesso storico che in tempi passati si era ipotizzato ma non si è potuto realizzare. Io credo che il tentativo sia questo. Credo che le liti, le diatribe, gli scontri che ci sono in questo momento da il presidente della regione del governo nazionale, nascano proprio dalla preoccupazione che ha il governo nazionale di un rafforzamento del centro qui in Sicilia, ma allora Forza Italia dovrebbe avere il coraggio di fare una nazionale forte e chiamare a tornarsi al centro, lasciando fuori la melonia, non uscendo dal governo e ci mancherebbe altro. Il governo è quello che ha votato la gente e quello rimane, ma iniziando a fare dei ragionamenti, cioè se Forza Italia si facesse promotrice di alcuni incontri con gli altri centristi e poi decidesse insieme agli altri centristi senza nessun capo, senza nessun protagonista rispetto agli altri, di puntare su un candidato all'Europa. Non solo vincerebbe, non solo questo candidato certamente vincerebbe, ma avrebbe realmente messo un punto fermo su un possibile cambiamento a favore della moderazione, a favore del centrismo in tutta Italia, non soltanto in Sicilia. Un po' questa è la politica di Berlusconi, nel senso che Berlusconi ha costruito la sua leadership spesso con i suoi passi indietro rispetto agli alleati, questo possiamo raccontarlo. E questo però c'è questa capacità oggi qua. Ripeto, le condizioni in questo momento sono buone, perché la posizione, come dire, di un minimo di scontro, nemmeno tanto forte, in alcune diatribe tra il Presidente e la Regione è una parte della coalizione. Come vedete che tutti i giorni sui giornali comunque c'è qualcuno di alleanza, di fratelli d'Italia che parla contro qualche... e viceversa. Le tensioni tra fratelli d'Italia e il Presidente della Regione, questa è una cosa che appare abbastanza... Ora, quando Trantino propone l'assognamento del Consiglio d'Amministrazione della SAC, come dire, è un'altra provocazione, è un'altra, visto il Consigliato che in questo momento, bello brutto che sia, nuovo, vecchio che sia, non ha importanza, comunque quel Consiglio d'Amministrazione rappresenta una parte della maggioranza, cioè non rappresenta l'opposizione per cui tu chiedi il cambiamento, rappresenta comunque quella maggioranza e la rappresenta, o se ne dire, in pieno. Allora, ripeto quello che ho detto prima, il futuro in questo Paese potrà avvenire solo nel momento in cui ci sarà il coraggio reale da parte di qualcuno che conta, di qualche personaggio nazionale, importante o anche regionale, di distinguersi dalla sinistra a sinistra e dalla destra a destra. Nel momento in cui ci sarà qualcuno che lo potrà fare, mi devo dire che io sono convinto ancora oggi che qui in Sicilia, in questo momento, è l'unico posto dove è possibile farlo. Quindi il laboratorio Sicilia esiste ancora e può ancora essere un laboratorio politico. Esiste ancora e potrebbe essere una cosa importantissima, se il Presidente della regione capisse che il futuro non può andare, adesso la deriva di destra, perché la storia ti racconta che non devo andare. Mi sembra che Schifani lo abbia percepito in maniera chiara. Allora si deve muovere, allora lo deve dimostrare. Quello che mi sembra singolare, dopo che avete avuto, è inutile a nascondolo, avete avuto dei problemi, Gianfranco Micicchè e Renato Schifani hanno avuto delle tensioni, non potete nascondere. Ma la sostanza è Gianfranco Micicchè? No, però fondamentalmente quello che sto sentendo adesso è una convergenza di opinioni in buona sostanza, anche se magari forse Gianfranco Micicchè andrebbe maggiormente a gamba tesa in questa direzione. O sbaglio? Ma io non voglio andare a gamba tesa nei confronti di nessuno, io sto facendo una proposta che non deve comprendere mai, per cui non è un fatto di interesse. è l'unica proposta che io ritengo utile oggi per il futuro di questa terra, è quella di rompere questo connubio che esiste con la destra, perché peraltro ce la stanno anche facendo pagare qua in Sicilia, per cui io che non lo voglio pure la devo pagare. Allora, se Schifani fosse un politico che volesse rimanere alla storia, di peso, che volesse lasciare un segnale vero, questi problemi che ha con la Melonia e con la destra li deve fare emergere di più, cioè deve cambiare il governo. No, parliamoci chiaro, cioè nel momento in cui lui è diventato capo di Forza Italia, perché da Presidente della Regione ha promesso 11 assessorati e quindi 11 persone che sono passate con lui, lasciando Forza Italia e quindi facendo diventare poi Forza Italia quella. Benissimo. Ma oggi lo stesso potere, lui ce l'ha nei confronti degli altri. Se oggi lui dicesse approfittiamo del fatto che non ci piace in questo momento il nostro rapporto con la Melonia e scriviamo un programma che serva per il futuro, che parta dall'Europa, che porti attraverso l'Europa a un nuovo protagonista, che è un nuovo centro, che è una nuova coalizione di centro, ma vera, non finta, non con dentro la storica destra siciliana, senza, con quelli veri che, e ce ne sono tanti che oggi sono a sinistra, che possono fare parte di questa coalizione, non possono farne parte di quelli. Se ci fosse questa forza, questo coraggio, questa intelligenza di fare questo tipo di operazione, io credo che Schifani passerebbe alla storia e la Sicilia sarebbe protagonista di un cambiamento reale che potrà esserci in Italia. Quindi siamo in chiusura di trasmissione, facciamo una breve sintesi di tutto quello che ci siamo detti per essere molto chiari. Gianfranco Micicchè propone in buona sostanza una sorta di compromesso storico, nel quale la Sicilia si fa ancora una volta al laboratorio politico, per mettere insieme tutte le forze democratiche, soprattutto centriste, ma guardando anche a sinistra, per andare a osteggiare, bloccare, impedire questa crescita esponenziale di una destra che non piace. O comunque ragionarci con un peso diverso. Con un peso specifico diverso all'interno di una coalizione. Questa è la proposta di Gianfranco Micicchè. L'hai sintetizzata in maniera perfetta. Mi fa piacere, questa è la proposta politica di Gianfranco Micicchè, che vi lasciamo per riflettere sopra, ma probabilmente potrà essere anche domani una riflessione per tutto il mondo della politica siciliana. Vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo Gianfranco Micicchè per averci venuto a trovare in queste ore, grazie a voi che ci avete seguito e appuntamento al prossimo Talk Sicilia. Arrivederci.